Altro inizio settimana sul fronte ai rifiuti a Torre del Greco. Come tutte le settimane, vi documentiamo lo stato in cui versano le strade del centro delle aree limitrofe. Seppur visibili lievi miglioramenti rispetto alle scorse settimane, non mancano i disagi ed i cumuli di spazzatura che fuoriescono dai cassonetti. In particolare, ciò che può saltare all'occhio, soprattutto nelle aree periferiche della città, è la grande quantità di rifiuti ingombranti. Dalle nostre immagini è possibile notare come alcuni rifiuti già protagonisti di un nostro servizio nelle scorse settimane sono ad oggi ancora in strada. Rifiuti ingombranti che nei giorni si sono arricchiti di altre parti di mobilio e diverso scarto di materiale edile. Non mancano i rifiuti neanche nei pressi del Palazzo Cittadino. Largo del plebiscito, infatti, si presenta con sacchetti conferiti giorni fa e mai ritirati, oltre all'immancabile materiale edile posizionato proprio a pochi metri dai cancelli della sede comunale. Gli elettrodomestici sono accatastati nei punti più inaspettati della città, dove magari non vengono neanche conferiti rifiuti ordinarie. Chiaro segno che qualcuno li abbia abbandonati volutamente in angoli nascosti. Un problema che resta quindi principale, attore del Greco, che al di là dei disagi resta comunque invasa dai rifiuti con la concreta necessità di educare i cittadini al giusto conferimento.